Benvenuti qui all'Eremo all'ultima tappa del Fatto Summer Tour Questa sera il tema della serata sarà l'estate Io proporei subito di partire con le interviste, che ne dici? Certo, andiamo! Siamo in compagnia di... Perla Ciao Perla, descrivici con l'oggettivo l'estate 2012 Beh, direi entusiasmante Sì Come mai? E sono stata un bel po' in Sicilia, è stata una vacanza bellissima, posti bellissimi, in compagnia del mio fidanzato, di tanti amici E quindi insomma, penso che posso essere contenta e soddisfatta Siamo in compagnia di... Francesco ancora Francesco, ti faccio subito una domanda Sapresti dire com'è stata per te quest'estate 2012? Eh, particolare Come mai? Eh, perché ci sono state nuove emozioni, new entry nel senso amichevole, nuove amicizie e nuovi posti da scoprire Siamo in compagnia di... Lucia Ciao Lucia, come definisci quest'estate 2012? La mia frizzante, sicuramente Come mai la definisci frizzante? Eh, perché è stata un'estate innanzitutto, sicuramente all'insegna della musica, con l'eremo e tutte le serate che hanno fatto qui a Molpetta, a Giovinasco, con le vacanze, è tutto il mare, quindi è stato bellissimo Siamo in compagnia di... Micaela Ciao Micaela, come definisci l'estate 2012? È stata fantastica Come mai la definisci fantastica? Perché quest'estate sono andata per la prima volta in vacanza, mi sono divertita tantissimo e poi ho conosciuto tanta gente nuova, è stata davvero una bella esperienza Ciao, siamo in compagnia di... Amela Come definisci questa serata? Serata fantastica, meravigliosa, musica bellissima, DJ fantastica Siamo in compagnia di... Nikla Nikla, un aggettivo per questa serata? Eh, molto carina, molto hip hop, bella musica E un aggettivo per quest'estate? Molto movimentata e molto frizzante Come ti chiami? Molto Un aggettivo per descrivere l'estate 2012 Ma bellissimo Sì, è bellissimo, veramente, molto carina Siamo in compagnia di... Silvia Grazie Un aggettivo per descrivere questa serata? Superlativa Superlativa Siamo in compagnia di... Serena Debole Buonasera Francesca Ancona Ragazzi, vi chiedo, un aggettivo per esprimere questa serata? Una bellissima serata, divertente Bellissima Bellissima Stupenda e travolgente Siamo in compagnia di... Flavia Flavia, un aggettivo per descrivere questa serata? Molto reggae e molto hip-hop E invece per descrivere l'estate 2012? Tremenda Siamo in compagnia di... Siamo in compagnia di... Tremenda Siamo in compagnia di... Siamo in compagnia di...